Ciao ragazzi, mi è arrivata la posta da Peraz97 già squarciata come potete vedere Non ho controllato l'interno e qua dentro, dentro un foglio E volevo dire una cosa appunto a Peraz e a Mr. Bingo E non ho potuto spedire perché, non so perché, sono andato appena uscito da scuola e la posta era chiusa C'era fuori un biglietto, mi sa che doveva mettere a posto dei macchinari, della roba del genere E era chiusa, quindi mi scuso con Mr. Bingo appunto per Asda, la spedisco domani Allora, mi spedisce tutto dentro questa cosa rigida E vediamo le carte e vediamo le condizioni Questo dovrebbe essere una extra e qua le due carte da scambio, che sono i due perdi Wind Up Hunter Rimonto Wind Up, quindi cerco tutte le cose Wind Up Ma cerco anche roba rabbit, cioè tipo i veiler così, vediamo le condizioni Questo è smint, questo è mint Iniziamo dopo lo smint, qua è smint ai bordi Non so se si vede Se si vede, un po' smint ai bordi ma vabbè, penso giocabilissimo Perché non è che sia tagliato a metà E vediamo questo che dovrebbe essere mint, infatti è mint Eh sì, mint, ok Poi Veniamo all'extra Che mi spedisce Una guida fotonica common Uh, è un fuggitivo del tempo super Mi serviva il secondo perché L'altro Non l'ho qua Da farvi vedere, però Non ce ne ho due e li posso cambiare Allora, in questa posta posso dare solo il fuggitivo del tempo E vabbè, questa qua non penso neanche che me la chieda nessuno Perché ne ho 15 Appunto tra gliele devo darne la base E basta Non do i due Wind Up Hunter Perché rimonto Wind Up E basta Che dire di altro Da Alex è tutto E alla prossima Grazie a tutti